Ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura subito la cronaca. Un arresto e 18 perquisizioni tra Sulmona e Avezzano. Controlli a tappeto della Polizia di Stato sul territorio provinciale. Sentiamo tutto nel servizio curato da Andrea D'Aurelio. 18 perquisizioni effettuate, un centinaio di persone identificate, un arresto, 4 denunce e una segnalazione alla Prefettura. Questo bilancio del progetto PUSHER, il servizio di controllo del territorio, finalizzato dalla ripressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, voluto dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Polizia di Stato ed esteso a tutte le province. Il personale della squadra mobile dell'Aquila, del commissariato di Avezzano e del commissariato di Sulmona nella scorsa settimana ha effettuato in ambito provinciale numerosi controlli sia su strada che presso i locali pubblici e nei luoghi abituali di ritrovo dei giovani. Nell'ambito dei controlli è stato tratto in arresto un 25enne all'interno della cui abitazione, nella camera da letto, sono state rinvenuti circa 400 grammi di marijuana, di cui la maggior parte è contenuta in una pirofila da cucina in plastica e il resto già diviso in dosi, un bilancino di precisione e un coltello utilizzato per il taglio. Sono state denunciate in stato di libertà 4 persone, trovate in possesso complessivamente di 44,50 grammi di marijuana, 27,18 grammi di hashish e 1,04 grammi di cocaina, occultati sia nei capi di abbelliamento indossati che all'interno delle autovetture di proprietà. Nel corso dell'attività inoltre si è proceduto a segnalare alla locale prefettura due giovani assuntori, trovati in possesso rispettivamente di 0,16 grammi di cocaina e di 1,50 grammi di marijuana. Rapina questa mattina in Viale Giulio Cesare a Vasto ai danni della gioelleria Arte Orafa. Poco dopo le 11 due persone a volto scoperto di cui una armata di pistola sono entrate nel locale dove in quel momento c'era solo la titolare. I malviventi si sono fatti consegnare diversi oggetti in oro per poi darsi alla fuga a bordo di una Fiat 16 di colore blu in un'azione durata pochissimi minuti. Al momento la donna, ancora sotto shock, non è in grado di quantificare l'ammontare del danno subito. Stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato agli ordini del commissario capo Fabio Capaldo. L'autovettura utilizzata per la rapina è stata trovata in fiamme dagli agenti della Polizia Locale di San Salvo a Corsi nel piazzale della Chiesa di Resurrezione Nostro Signore Gesù. Il mezzo era stato rubato lo scorso mese di dicembre a Campomarino nella provincia di Campobasso. Al vaglio degli investigatori le riprese delle telecamere esterne e interne della gioelleria per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vastor. Per strada nel cuore della notte in mutande tenendo un fucile poi risultato essere un giocattolo. La scena che può ricordare il film Gomorra è stata segnalata alla polizia da alcuni cittadini di Bologna in via Montegrappa nel centro storico verso le 5 del mattino di ieri. Ed è costata una denuncia al protagonista un pescarese di 25 anni. Gli agenti delle volanti sono infatti entrati nel condominio in cui era stato visto accedere il giovane e hanno aperto la porta del suo appartamento con l'aiuto dei vigili del fuoco. All'interno il 25enne, all'interno un coinquilino, anche lui pescarese, di 29 anni e un argentino. L'arma era un fucile giocattolo ad aria compressa. Ad essere sequestrate sono state però quattro piantine di marioane. I due italiani con precedenti di polizia, dunque i due abruzzesi, sono stati denunciati per coltivazione di stupefacenti. Il 25enne anche per procurato allarme. E dopo questa notizia chiudiamo la pagina della cronaca e apriamo adesso quella dedicata alla Polferi, il posto di polizia ferroviaria alla stazione di Sulmona. È stata chiesta la proroga di un anno per la Polferi di Sulmona. Il sindacato COISP annuncia un esposto in procura e lo ha fatto nel corso della manifestazione di questa mattina alla stazione ferroviaria di Sulmona. Il servizio è di Andrea D'Aurelio. Chiesta la proroga di un anno per il posto di polizia Polferi di Sulmona. Ad annunciarlo la senatrice di Forza Italia Paola Avelino nel corso della manifestazione a difesa del presidio svoltasi questa mattina nella stazione ferroviaria. Io ho già detto al Ministro che se non arriva questa proroga faremo sotto al Ministero una grande manifestazione di tutta la regione Abruzzo perché quando ci sono questi accadimenti a me piacerebbe vedere, così come noi facciamo per altri comuni dell'Abruzzo, la partecipazione di tutti. Invita la città a scendere in piazza il sindaco di Sulmona, Anna Maria Cassini, ribalendo il diritto fondamentale alla sicurezza e l'importanza di lavorare insieme. Non ha nessun fondamento il depotenziamento di questa sezione di Polferi locale. Noi porteremo avanti questa istanza con l'aiuto dei parlamentari e di tutti i rappresentanti politici del territorio perché questa è una battaglia di territorio, non è una battaglia di parte. Sicuramente da parte di tutta l'amministrazione c'è la volontà che questo presidio non venga chiuso. Come già è stato detto, in Consiglio Comunale è stata affrontata la problematica, è stato votato all'unanimità un ordine del giorno. I numeri sono elevatissimi rispetto anche agli altri due presidi che noi abbiamo in provincia. Noi non possiamo permettere che venga depauperata questa stazione ferroviaria. Sulmona è già stata depotenziata a livello di commissariato. Scarse sono le risorse delle forze di polizia e siamo convinti che con queste risorse non si possa sostituire la perdita della Polferi. Santino Licazzi e il sindacato COISP ha fatto notare che nella stazione di Sulmona transitano 65 treni giornalieri, 25 treni l'anno della Transiberiana d'Italia e che l'infrastruttura è secondo scalo d'Abruzzo con 500.000 passeggeri annui. Il sindacato annuncia un'esposta alla Procura della Repubblica per eventuali episodi che si verificheranno in caso di soppressione della Polferi e avvia la raccolta firme porta a porta. I cittadini devono sottoscrivere questo documento in cui chiedono l'aumento dell'organico. Con l'aumento dell'organico sicuramente il posto non verrà chiuso. Per noi che viaggiamo quotidianamente come pendolari, come studenti e lavoratori è fondamentale il presidio delle nostre linee da parte della Polferi, ma anche per il personale che poi lavora. Questa è una vera e propria rapina. Pensate all'Aquila perché il problema è politico e io non vedo né la Pezzopana né di Pancrazio che qui sono venuti a prendere voti. Non ci dobbiamo scordare che all'interno del territorio peligno abbiamo uno degli istituti di pena tra i più pericolosi d'Italia, in procinto di divenire il più pericoloso in assoluto d'Europa. Tra le altre hanno partecipato alla manifestazione il consigliere comunale Bruno Di Masci, la sezione Ana, le guardie cozofile, Domenico Capaldore, coordinamento Mobast, il vice sindaco di Bugnara, Domenico Taglieri e pochi cittadini. La senatrice Stefania Pezzopane, impossibilitata a partecipare al presidio di oggi a Sulmona, ha inviato un messaggio al COISP e alle istituzioni locali. In questa importante giornata di mobilitazione a sostegno del presidio di Polizia Ferroviaria di Sulmona, afferma non faccio mancare il mio sostegno ad una sacrosanta e giusta battaglia. Ho parlato in settimana sia con il ministro Minniti che con il sottosegretario Bubico per sollecitarli ad una maggiore attenzione a prevedere un'ulteriore proroga. Trovo sbagliato confermare le precedenti intenzioni del ministero di procedere alla chiusura della Polferre di Sulmona. Non intendo indietreggiare di un solo passo dalle mie posizioni. Insieme al COISP, che ringrazio per l'impegno e con le istituzioni locali, abbiamo in questi anni evitato la chiusura ottenendo già la proroga e dobbiamo insistere tutti insieme su questa linea. A me sembra che non solo non si debba procedere alla chiusura, ma si debba invertire la tendenza a svuotare il presidio e riconfermare la necessità del potenziamento dell'organico di Polizia per scongiurare definitivamente la soppressione. A prezzo, prosegue la senatrice Pezzopane, le novità che il ministro Minniti sta predisponendo in campo nazionale per garantire ai cittadini maggiore sicurezza. Allo stesso ministro ho sottolineato come la stazione di Sulmona rimanga uno scalo importante e prioritario per l'Abruzzo. La parola sicurezza è una parola importante. Nelle aree interne c'è una fragilità insopportabile. Peraltro, nonostante la straordinaria professionalità e l'impegno dimostrato quotidianamente dal commissariato di Polizia che va ringraziato e sostenuto, lo stesso ha una sola volante sul territorio insufficiente a garantire anche il controllo dello scalo ferroviario. Per questo giusto obiettivo non intendo abbassare la guardia. Sono come sempre a disposizione, conclude la senatrice Pezzopane, per le giuste battaglie. Prima viene la difesa del territorio, poi tutto il resto. Il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo, Mario Mazzocca, e l'assessore regionale Silvio Paolucci, a nome di tutta la giunta regionale, esprimono grande soddisfazione per l'esito dell'appello del processo sul disastro ambientale di Bussi sul Tirino. La decisione, oltre a riconoscere la responsabilità penale per il disastro, nella forma colposa aggravata e la sussistenza dell'avvelenamento delle acque, nella forma sempre colposa, condanna gli imputati a risarcimento del danno e a ripristino ambientale. La Regione era costituita parte civile ed appellante, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, presente in giudizio con l'Avvocato Cristina Gerarvis, anche direttrice generale dell'ente, e con l'Avvocato Generoso Di Leo, dell'Avvocatura distrettuale dell'Aquila. La sola provvisionale su una richiesta risarcitoria di mezzo miliardo di euro e nell'immediato di 500 mila euro. Risorse che, una volta ottenute mediante l'azione civile da attivarsi con la massima sollecitudine, potranno essere utilizzate a vantaggio del territorio regionale, in primis per una approfondita indagine epidemiologica e certamente nel settore della salute dei cittadini, danneggiata dalle condotte di reato accertate nel processo. Crediamo, scrivono ancora, ma so che Paolucci sia stato svolto un eccellente lavoro. Avremo cura nel proseguo delle attività giudiziali ed amministrative, che potranno portare risultati concreti per il nostro territorio. Tempi duri e torniamo così a Sulmona. Tempi duri per i furbetti del cartellino. Via libera del governo ai licenziamenti. L'inchiesta, ricordiamo, è scoppiata ad ottobre 2016 anche a Sulmona. Chi si trisce il beige e poi va via per fare shopping o altro, deve andare a casa. Via libera da Palazzo Chigi e licenziamenti per i furbetti del cartellino. Dopo la battura di arresto dovuta alla sedenza della consulta, il Consiglio dei Ministri ha approvato i nuovi decreti del Madia Abis. Viene fatto ordine sui casi di licenziamento dallo scarso rendimento alla cronica condotta illecita. I tempi per arrivare a decidere sulla sanzione si riducono da 4 a 3 mesi e a un mese per tutti i casi di flagranza. Un'inchiesta sui furbetti del cartellino si è avverta anche per il Comune di Sulmona. In 25 al momento ci sono visti a recapitare la notifica della Corte dei Conti per danno erariale. Gli atti sono stati emessi dalla Procura dell'Organismo con funzioni giurisdizionali e amministrative di controllo e di vigilanza sulle entrate e spese pubbliche all'interno del bilancio dello Stato. Viaggia invece su un altro binario l'inchiesta penale aperta dalla Procura della Repubblica di Sulmona dopo le indagini condotte della Guardia di Finanza. Sarebbero 46 su 102 gli impiegati comunali coinvolti nell'inchiesta sull'assenteismo a Palazzo San Francesco quasi la metà della totalità della pianta organica. Nelle immagini delle telecamere nascoste dalle fiamme gialle gli impiegati vengono ripresi al bar a fare shopping o la spesa durante l'orario di ufficio mentre altri sono stati sorpresi a timbrare più cartellini per volta. Sì del Vescovo di Sulmona Valva, Angelo Spina, all'incontro con i lavoratori della Magneti Marelli che chiedono spiegazioni sulla decisione che potrebbe essere presa di far lavorare appunto nella giornata di Pasqua lo stabilimento Magneti Marelli. Sono sul piede di guerra anche la FIOM CGL della provincia dell'Aquila. Sentiamo tutto del servizio. Credo che il confronto sia la strada giusta per arrivare a una soluzione condivisa da tutti. Interviene Vescovo di Sulmona Valva, Angelo Spina, sull'apertura dello stabilimento della Magneti Marelli di Sulmona il giorno di Pasqua. Un caso che già sta scatenando una serie di reazioni all'interno dello stabilimento nonostante dai vertici dell'azienda si attende ancora una decisione ufficiale. I presi le staranno chiamati in causa proprio dalla FIOM CGL della provincia dell'Aquila e dai lavoratori che richiederebbero un confronto con Mozzino Spina qualora la sistema in sospensioni non farà dietro fronte. L'uomo senza lavoro perde la dignità e senza la festa la libertà, afferme Pastore Diocesano. Pasqua è un evento cristiano e non solo, che pone una riflessione che può favorire l'avvio di un dialogo fra le stanze dell'azienda e quelle dei lavoratori. Credo che il confronto sia la strada giusta per arrivare a una soluzione condivisa da tutti. Per il resto, non conoscendo i termini contrattuali della fabbrica, non mi sento di intervenire su una questione sindacale. Sono però aperto al confronto. Un concetto chiaro su cui bisogna riflettere è questo, che l'uomo senza lavoro perde la dignità, ma l'uomo senza la festa perde la libertà. Ora come coniugare dignità e libertà? Lavoro e festa? Qui si deve trovare un punto di incontro e di dialogo e questo è possibile. Il problema della Pasqua in fabbrica arriva dopo mesi di mobilitazioni e scioperi con adessione al 90% in seguito all'organizzazione di 18 turni. Altro problema sollevato dal sindacato è quello del premio di produzione che ha portato a nuove assemblee dei lavoratori proprio in questi giorni. E quanto mai necessario ripristinare per il 2017 la misura degli ammortizzatori sociali in deroga a tutte le imprese dislocate sul territorio regionale. Lo chiede l'assessore regionale alle politiche del lavoro Andrea Gerosolimo, con una lettera inviata al ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti. La straordinarietà della misura, scrive l'assessore regionale, si lega naturalmente agli ultimi disastrosi eventi atmosferici che si sommano al sisma del 18 gennaio scorso e allo sciame che continua ad interessare gran parte del territorio regionale. Una situazione del genere ha risvolti su tutta l'economia regionale con le piccole imprese costrette a gestire i ridotti ambiti di mercato con ricadute su produzione e occupazione. Il fatto prosegue Gerosolimo che molte piccole e medie aziende non possono ricorrere ad integrazioni salariali in deroga rende ancora più difficile la situazione dell'economia regionale. Si tratta nella sostanza di prevedere su tutto il territorio regionale la misura straordinaria della cassa integrazione in deroga in favore delle imprese stabilita dall'ultimo decreto terremoto del Governo nazionale. Attualmente quella misura, prevista per il settore privato, compreso quello agricolo, è applicabile ai soli comuni del cratere. La Regione chiede l'estensione a tutto il territorio regionale. L'appello a Poletti, spiega Gerosolimo, nasce dal confronto con i sindacati e con le associazioni datoriali nell'ultima riunione del CICAS, nel corso della quale è stato caldeggiato un intervento di questa natura. Sul territorio, ha aggiunto l'assessore, le aziende sono in grossa di difficoltà ed è per questo che si rende necessario un intervento straordinario del Governo a cominciare dall'estensione della cassa in deroga almeno per tutto il 2017. Parole di adesione e soddisfazione per l'iniziativa assunta sono arrivate dalla CGL di Pescara tramite il responsabile dell'area vestina, Massimo Di Giovanni, una delle aree più colpite dal maltempo e sulla quale pesano fortemente le ricadute negative del terremoto di gennaio. La Pantex di Sulmona diventa brasiliana ed è stata completata dunque la cessione dell'azienda. Seguiamo i particolari nel servizio di Andrea Daurelio. Concluso l'iter della cessione della Pantex International la società di Sulmona rilevata definitivamente dalla brasiliana FITESA. L'operazione che prevede la cessione del 100% della società consente di realizzare un ritorno sul capitale investito di circa 2-3 volte in soli 24 mesi con un tasso di rendimento lordo di oltre il 50%. L'obiettivo dell'investimento di Quadrivio che aveva siglato l'acquisizione del 99% della società in gennaio 2015 era di sopportare la partecipata nel rafforzare la sua presenza nei mercati esteri in particolare negli Stati Uniti mercato rilevante per i prodotti geni e di personal care caratterizzato da un numero limitato di produttori. Anche grazie all'attività svolta da Quadrivio nel marzo 2015 è stata avviata l'installazione nel sud Carolina di Tre Linee per la produzione di Top Sheet iniziata poi nei primi mesi dell'anno seguente. Negli ultimi 24 mesi la società ha registrato un incremento delle vendite di circa il 60% con un fattore d'attorno a 70 milioni di euro. Trova lavoro a Sulmona presto una piattaforma ad hoc negli uffici del sociale si chiamerà Clic Lavoro sentiamo tutto. Anche a Sulmona proderà Clic Lavoro lo sportello che permette di facilitare la ricerca di occupazione in una realtà sempre più martoriata dalla crisi la Palazzo San Francesco già hanno individuato un dipendente che si occuperà di gestire la piattaforma online dove aver seguito un apposito corso di formazione ad annunciare l'assessore sociale del comune di Sulmona Mariella Iommi le richieste di lavoro e di aiuti di ogni genere sono in costante aumento conferma l'assessore sociale vice sindaco sia da giovani che da oltre 50 anni da qui il nostro sforzo è intercettare tutte le linee possibili di finanziamento regionale e nazionale nel frattempo stiamo provvedendo l'attivazione di uno sportello dedicato alla ricerca del lavoro nei limiti delle nostre competenze Clic Lavoro è una piattaforma digitale che consente di ingrociare domanda e offerta mediante il caricamento di curricula uno strumento utile per ogni amministrazione che serve a intercettare i reali bisogni di lavoro e farli conoscere alla popolazione soprattutto a coloro che hanno fatto richiesta a gestire lo sportello sarà un dipendente del comune di Sulmona dove aver seguito un corso di formazione adesso lo sport ci occupiamo di calcio a 5 perché nel campionato di serie B Big Match oggi alle 16 al Palasport di Popoli la Sagittario Pratola seconda in classifica ospiterà la capolista Lido Di Ostia le due squadre sono separate da 7 punti ma i pratolani proveranno a sfruttare il buon momento di forma frutto di 7 vittorie consecutive la Sagittario è in serie positiva da ben 12 turni e non perde dallo scorso 5 novembre proprio nella sfida dell'andata contro il Lido Di Ostia per l'importante partita tra la prima e la seconda in classifica si prevede una buona affluenza di pubblico oggi al Palazzetto dello Sport di Popoli calcio d'inizio alle 16 e dal calcio a 5 passiamo al calcio a 11 per presentare le gare delle squadre peligne impegnate nei campionati di eccellenza e promozione in eccellenza domani i Nerostellati Pratola giocheranno in casa contro l'Acqua e Sapone mentre al Pallozzi di Sulmona ci sarà un arbitro Lombardo per la sfida playoff tra la sulmonese Ofena ed il passo cordone il Raiano giocherà a Chieti contro la capolista Chieti Torre Alex sentiamo le presentazioni di queste gare nel nostro servizio nella nona giornata di ritorno del campionato di eccellenza i Nerostellati dopo il rammerico per aver perso nel finale domenica scorsa nella tana della capolista Francavilla si apprestano a ricevere l'Acqua e Sapone Montesilvano con l'obiettivo di riscattarsi per rimanere in zona playoff non sarà della partita l'attaccante Maximilian Palombizio appiedato dal giudice sportivo così come il tecnico Matteo Di Marzio tornerà invece a disposizione Pacella al posto di Palombizio giocherà Cicconi con la vittoria i Nerostellati si attesterebbero a ridosso delle primissime posizioni nell'ottava di ritorno del girone B di promozione spicca la sfida del Pallozzi tra Sulmonesi Ofene e Passo Cordone a dimostrazione dell'importanza del match è stato designato un arbitro della Lombardia Stefano Peletti di Crema si tratta di un direttore di gara affermato nella sua regione per aver ricevuto premi e riconoscimenti per impegno e professionalità nella sua carriera c'è stato però anche un episodio negativo quando nel 2013 subì l'aggressione di un giocatore in una partita di seconda categoria al fischietto cremonese il compito di gestire il delicato confronto dove chi vincerà guadagnerà la quarta posizione in solitaria la squadra di Scandurra senza tirino squalificato proverà a staccare il Passo Cordone reduce dal passo falso interno nel recupero contro il Villa 2015 se i Biancorossi mercoledì avessero vinto contro il Castiglione Valfino avrebbero potuto giocare con il vantaggio in classifica per la Sulmonese Ofena è stato comunque un risultato importante che serva ad allungare la striscia dei risultati positivi situazione diversa in casa Passo Cordone dove l'allenatore Enzo Leone dopo la sconfitta di mercoledì contro il Villa 2015 ha sottoposto giovedì i suoi giocatori ad un allenamento punitivo la gara sarà interessante anche per la presenza nel Passo Cordone dei calciatori Peligni Francesco Pizzola attaccante ex Prosulmone San Nicola ed il portiere Erminio Dicenzo ex pacentro in promozione e nella scorsa stagione all'Ovidiana in terza categoria il Raiano andrà a far visita al chietitore Alex con il ricordo dell'andata quando la squadra di Antinucci strappò un pareggio alla capolista e dopo lo sport prima di concludere come al solito possiamo vedere i film in programmazione alla multisala Ijoland di Corfinio 50 sfumature di nero con proiezioni alle 18.20 e alle 21.10 mamma o papà alle 18.10 e 21.10 Lego Batman il film con unica proiezione alle 18.00 bene è tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale adesso vi lascio alla rubrica buon appetito per conoscere il piatto del giorno subito dopo la sigla per quanto riguarda il telegiornale appuntamento alla prossima edizione in diretta questa sera alle ore 20 ci salutiamo con il meteo buona giornata a tutti voi sulla nostra regione condizioni di cielo molto nuvoloso coperto con rovesci diffusi più frequenti sul settore occidentale a carattere sparso sul settore orientale con nevicate sui rilievi al di sopra dei 1200 1300 metri in graduale calo intorno ai 900 millimetri assisteremo poi ad una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni a partire dal Terramano e dall'Alto Aquilano in estensione verso le restanti zone ulteriore miglioramento nella giornata di domani con ampie schiarite su gran parte del territorio regionale temperature in diminuzione venti deboli dei quadranti settentrionali ma poi saranno in rinforzo specie sul settore orientale costiero mare generalmente mosso con moto ondoso in ulteriore aumento grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.